Cambiamo ancora argomento, San Vito al Tagliamento, al Teatro Arrigoni con un dramma che ci parla di dislessia negli anni. Il nostro guido Vignaduzzo ha intervistato Maria Aris, attrice e protagonista della commedia Cronache del bambino Anatra. Sentiamo. San Vito al Tagliamento, Teatro Arrigoni, siamo qui con Maria Aris che questa sera ha interpretato per noi la parte di Luisa. Chi è Luisa? Luisa è una madre che come tutte le madri non è perfetta, quindi è una madre che ama molto suo figlio e cerca di accompagnarlo nella sua crescita e trova questo ostacolo appunto della dislessia che non conosce perché siamo diciamo il bambino e bambino negli anni 60 e cerca delle strategie spesso sbagliando però sempre con amore. Un po' penso come fanno tutte le madri insomma. Il momento dell'inversione dei ruoli, il momento in cui la madre diventa bisognosa verso il figlio e il figlio forse non ha più bisogno di quell'aiuto che invece necessitava all'inizio della madre. È stato un momento in cui è stato molto ricco di pathos. Come lo vivi tu? Lo vivo pensando a quello che sarà il mio futuro e sperando che mio figlio mi restituisca un po' dell'affetto che mi sta dando anche adesso. È un momento secondo me di grande tenerezza quando anche che mi ricordo insomma ciascuno di noi si è trovato magari a contatto con parenti o conoscenti o amici anziani e quel momento in cui l'uomo, l'essere umano torna ad essere nuovamente fragile come fragile nel periodo delle infanze. Sono come due estremi che si congiungono in quello che è il cerchio della vita insomma. Il bambino anatra, cosa c'è dietro questo nome? Dentro questo nome c'è la mala interpretazione, cioè come appunto il cigno veniva considerato brutto semplicemente perché pensavano fosse un anatroccolo ma invece era un cigno. Così anche in questo caso appunto la dislessia non interpretata viene considerato in un altro modo. Quindi c'è anche la trasformazione verso una rivincita, quindi ciascun anatroccolo insomma nella sua vita può trasformare i suoi difetti, i suoi limiti in qualcosa di meraviglioso. Visto? Pulcini belli sono. Oh no, uno è stecchito poverino. No, invece si muove ancora. Ma che c'è di male? Ma che devo ripulire mamma, che non possiamo metterci a dare ospitalità ai piccioni. Ci mancava solo questa. Ma perché i poverini lasciali stare? Perché? Perché è uno schifo. Pulcini? Ma che pulcini mamma? Quelli sono piccioni. Piccioni pantegane con le ali, uno schifo. Maria Aris, attrice diplomata alla civica scuola d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano nel 1989, si è perfezionata alla Gaidel School di Londra. Ha lavorato con registi quali Cristina Pezzoli, Giampiero Solari, Massimo Castri, Sergio Fantoni, Gigi Dallaglio, Monica Conti, Franco Però, André Sciamà, collaborando con alcuni dei più importanti enti di produzione teatrale italiani. All'attività teatrale ha alternato collaborazioni in produzioni radiofoniche, cinematografiche e televisive. Grazie a tutti.